Ciao a tutti ragazzi, sono qui per ringraziarvi per i 10k iscritti sul nostro canale youtube Grazie di cuore ragazzi e sono anche qui per ricordarvi che noi sabato 8 e domenica 9 faremo una mini maratona in live su twitch Il programma lo potrete vedere qua nei nostri social e in generale sarà una mini maratona che durerà dalle 14 alle 2 del mattino Ci saranno risate, divertimento e anche qualche piccolo premio se vorrete passare siete tutti benvenuti ovviamente E per esempio uno dei regali è questa fantastica mini bambolina di Disney come potete vedere è una certa somiglianza Se però volete avere una chance di vincere mi raccomando eh, sul nostro canale sabato e domenica dalle 2 alle 2 Vi aspetto Uff che una patch E' 10 Davvero è solo 10 Che peccato Ma che è tutta sta centaccia qua? Poverino Ho sperato che stesse appiccicato Ho scritto uno 0 in meno Quindi abbiamo 18 iscritti su youtube raga, dai Ma si sta già lasciando morire raga Ma che è Ma che è Ma raga che palle la gente Il problema è che eruzione mi pare che copri Quanto sta lavorato un generatore Perché vedi non me lo fa vedere così Il che è un po' scam Beh è normale contro uno spettro Non sono sicuro di questa cosa Non stanno neanche lavorando a un gen questi raga Cioè ma che cazzo Ho sbagliato il timing Immaginavo che non volesse Brupparlo Si progetta un game molto emozionante Io penso che sia già finito Non penso che stanno letteralmente giocando questi Oh stanno lavorando un gen invece Attenzione Cosa abbiamo adesso pop Perché giochi a 320p What? Pagando che non avevo ancora ruzione Non è che sei tu che hai 320p di grafica In questo momento Questa non la capisco Onestamente Non so dove Oh posso avessi uno scratch marks No Pam pam Eccola qua Un po' di body Perché così non può Allontanarsi troppo E ci portiamo pure eruption Mi chiama assordato Sta roba Doveva per abbassare forse Leggermente Quando blocca il generatore Perché veramente Sta assorda Cazzo La vita è che non fanno Un perk da killer Oggettivamente è ottimo Comunque Beh no C'era quello dell'alien Che è stato underfato C'era l'arma suprema Pagando Pogando andare a usare pop Ciao gala Buonasera caro Come stai? Non è partito ancora il tuo sound? Mi sono messo un trattino basso in meno Allora Cosa resta? Oh come domanda Tutto posto grazie Non è nuovo ma lo hanno rifatto Sì però non lo puoi considerare nuovo A me è onestamente quello degli item di Vecna Mi piace insieme a Franklin È un buon aura reading secondo me Certo il counter Certo il counter è mettere l'oggetto fuori dalla mappa Eh però Noi cante singolarità non ne parliamo No quelli no Quelli stanno bene nel dimenticatorio Ma quale gente stanno a fa' questo? Carismatiche TRS TR stronzo Sì sì Ma insieme da solo fa' schifo Sì da solo fa' abbastanza cagare Allora Quelli altri gens stanno a lavorare Forse è quello L'hanno ripreso Quanto ha hitto lei Tanto così prendono di nuovo la distanza Per andare a tirarla giù Il god qui non c'è più Perché lo sostenimento di Vecna Che secondo me è bello Si è arreso Secondo me non è male anche quello lì è vero È un buon chase perk Ok 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 Che game po' del cazzo raga Veramente però Paranoia sto game Neanche un po' di sfida E' provato Killer Clowns No Non so fossero in due a fare questo gen Che palle sto tanto possibile Bing bong, bing bong, bing bong Hanno finito il gen? Sì, sì Non sono neanche reso conto Quella Io poi voglio fare comunque qualche game da serve Ve lo dico Perché voglio provare di nuovo la bilge a rush Ormai ce l'ho in mente quella bilge a rush Voglio farla funzionare almeno una cazzo di volta Almeno una dico Non dico chissà quanto Almeno una At least once Bambuso il value Vai bravo Flash è un po' Coglione Coglione anzi Perché è un surf femmine Spring burst Non puoi perdere l'hard Anche se ti guardi dietro Eeeh GG NBS Perché non è durato un cazzo lo stun? Ragazzi perché non è durato un cazzo lo stun? No, non erano quattro secondi Questi erano i vecchi tre Ah, è verde o giallo? Mi sono rimasto male Per quanto infatti mi sono ripreso Erano due secondi e non tre Vabbè Vabbè ma c'è un gen No eh Non sei più abituato alle cose fair day sur Vero? Eh già Mi sembrava troppo poco effettivamente Ma stanno rattando? Boh Che noia Ecco questo serviva arma suprema comunque Secondo me doveva servire a questo arma suprema Quando sono troppo fermi O in generale non si stanno muovendo Ciao No eh Buonasera caro come stai? Che due coglioni raga Sono anche metà comparsa Ce l'hai ogni venti secondi Ma ti dà meno speed Siamo in generale non ti corri nel trincese per qualche minuto Ti arrivano ugualmente i corvi Sì Stessa cosa penso io Se entro tre minuti Due tre minuti Non tocchi neanche un generatore Ti arrivano i corvi Anche meno in realtà Per me è un incubo cercare così Scurv Cioè Ci metto delle ore Ciao Nick Buonasera caro come stai? Forse sono nel basement Vado a vedere nel basement Come va bene Se non fosse per i rattini Che Dovano scartavetrare il cazzo raga Meritano di essere slaggati Non sono nel basement Raga porco due Mi sto scartavetrando davvero i coglioni Vi prego Mamma mia che palle la gente Che cazzo sono poi? Oh Ho visto un corvo volare Porco due Ah hanno iniziato sto gen Ah ciao Coglionazzi di merda No vaffanculo Sì Solo con te parlo E ti slaggo pure Guarda Vaffanculo Bene vado a quattro minuti raga Va bene Per voi è un problema No no Fai pure Fai a fare cacchina No ti prego Chiudi sta tortura Chiudo Chiudo Poi ora l'M1 Io tiro Mi aspetto il toxic a fine game Guarda Uno era la console L'altro no La prima volta che ti suonano in faccia Tu rispondi suonando la campana Con l'ora a ritmo No DS ce l'aveva Viola raga GG cuoricino Non erano 4 secondi Si è bugato Mi sa No E cos'è bugato Che Grazie.